Ciao, sono Marco, sono uno studente e sono appassionato di skate e dell'America. Il mio piatto preferito è il Graffiti BBQ Super Cheeseburger. Il termine hamburger deriva da Hamburg, la seconda città più grande della Germania da cui molti abitanti emigrarono verso gli States. Io adoro il BBQ Super Cheeseburger, beh perché ci metto meno tempo a mangiarlo che a chiudere un flip trip con lo skate. No, a parte gli scherzi, questo hamburger racchiude due tipi di formaggio, la fontina italiana e il cheddar americano, un sapore intenso della salsa barbecue con le classiche verdure che non mancano mai. Io scelgo sempre la versione Graffiti, che è quella storica della catena con l'hamburger da 230 gradi. G! Realizza anche tu un video sul tuo piatto preferito del nostro menù. I più divertenti saranno pubblicati sul canale YouTube ufficiale e nelle TV in store.